Siamo con Ciccio De Rose, al quale chiedo inevitabilmente di ricominciare da lì, ti vedo molto molto arrabbiato. Sì, sono arrabbiato perché non... intanto per non aver guadagnato i tre punti, perché ce li meritavamo, però dispiace perché non hanno dato due gol regolari dove si sono fatti influenzare dai panchinari del Siena, però se hanno visto così... andiamo avanti, la strada è quella giusta, non ho nessun dubbio sulla nostra squadra, usciamo da qui amareggiati sicuramente per non aver portato i tre punti, però molto contenti per la prestazione e per le prestazioni che stiamo facendo ultimamente, quindi sono amareggiato ma contento. Avete davanti una squadra, un muro quasi, non subiscono gol ora da sei partite in pratica, poi è vero che oggi due li avevano subiti, però al di là degli episodi, nell'interpretazione, per 25 minuti è una partita sporca, senza occasioni, una fase di studio lunghissima, la fase centrale della partita tra fine primo tempo e fine secondo tempo è lì che si doveva raccogliere chiaramente di più, poi tu dirai, noi i gol li avevamo realizzati, però ecco, quella è certamente la cosa migliore. Sì, sì, no, la partita che abbiamo fatto è quella giusta, non possiamo recriminare niente, è andata così, gli arbitri ci hanno messo del loro, però li rispettiamo come sempre, andiamo avanti per la nostra strada che è sicuramente una strada positiva.